Ciao ragazze, allora nuovo video, questo sarà un video un po' diverso dal solito, infatti ho pensato di realizzare con voi questo look che sinceramente sto utilizzando moltissimo questa estate, soprattutto perché fa tantissimo caldo e non mi va molto di truccarmi e ho approfittato anche per provare con voi questi nuovi pennelli che ho ordinato da Amazon ad un prezzo scontatissimo, tipo ne ho pagati 1,20 euro grazie ad un codice sconto e vediamo un po' cosa ho combinato come prima cosa prendo il correttore, questo è il numero 4 di Alchemilla e lo metto su tutte le mie occhiali da panda lo spalmo bene bene, abbondo anche un pochettino perché poi metterò pochissimo fondotinta vado a tamponarlo con le dita, a questo punto passo alla cipria, metto questa di Sien Compact Powder con un pennellino a setole piacche è la volta poi del fondotinta e utilizzo questo abbastanza scuro di Natir che in realtà è una BB Cream lo stendo semplicemente con le dita perché non voglio un effetto molto coprente lo spargo bene anche sul collo per non far vedere lo stacco e passo poi nuovamente alla cipria sempre di Sien, la Compact Powder, questa era un'edizione limitata che ho trovato questa primavera da Lidl e lo sto applicando con il pennello, quello a setole ampie passiamo poi alle sopracciglia, sempre con una matita di Sien le prima ridefinisco naturalmente con la punta della matita e poi vado con lo scovolino che c'è dalla parte opposta per pettinarle avevo dimenticato di applicare il balsamo labbra quindi metto questo al cocco di Alchemilla è la dorcilabbra per gli occhi c'è matita nera all'interno e all'esterno dell'occhio solo della parte inferiore le metto un bel po' e poi vado a fumarla e a tamponarla con un pennello a setole piacche vado adesso con il mascara, questo è quello della formula pura di Deborah Milano e lo metto sia sulle ciglia inferiori che naturalmente in modo abbondante sulle ciglia superiori abbondo appunto con il mascara perché non metterò alcun ombretto su passiamo adesso al contouring e vado con la compact powder, ossia la terra di Sien e la metto sulle guance, faccio il contouring anche sul naso proseguo poi con la mandibola e a fare un po' di contouring anche sulla fronte come blush utilizzo il Silky Touch Blush di Essence che dà subito un effetto molto sano e come illuminante vado con il numero 01 Champagne di Puro Bio e lo applico sugli zigomi, sul naso, sull'arco di cupido e un pochettino anche sul mento ma il pezzo forte di questo make up sono senza dubbio le labbra con la tinta labbra numero 04 di quelle nuove di Astra che è un rosso molto molto intenso, si deve fare attenzione ad applicarlo bene ragazzi con questo è tutto, spero che il look finale vi sia piaciuto io lo adoro semplicemente mi raccomando se vi è piaciuto il video lasciatemi un bel pollice in su e se non siete iscritti ricordate di iscrivervi al canale e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video un bacione ciao ciao